te l'hai incazzato no, eh, jah, va buona no, no armando kombuchi creations paradise che si co cosa ho visto, cosa ho visto ti prego, aspetta, aspetta, aspetta ho fatto il retro passaggio al portiere frate, ma ho segnalato, ma non ho tirato io, scusami no, ho fatto il retro passaggio al portiere frate, ma mi pare che ci tirati, guarda no, no, guarda ma ok